bello a tutti ragazzi su jessica su un nuovo video oggi siamo tornati nel walkthrough di the last of us episodio 3 ci eravamo lasciati qua con joel e la nostra amica di cui non mi ricordo il nome nei bassi fondi siamo dopo che è stato dopo che c'è stato tipo l'attentato diciamo l'esplosione quando volevamo accedere dall'altra parte e se non cercare un tizio che ci deve dare le armi quindi io direi di non ci schiare tanto e proseguire sì di qua perfeccato altri della banda di robert come sai che sta arrivando due dei nostri sono morti cercando di far fuori tess e ora lei e joel stanno venendo a prendere robert cristo non avremmo dovuto accettare questo lavoro non dipende da noi dividiamoci e assicuriamoci che non entri nessuno per 30 secondi che mi avvicinavo anche il tizio lato forza 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 per ora ero in giordan street sono arrivati un sacco di soldati con un gruppo di cinque civili in manette Fammi indovinare Luci? Sì, li hanno messi contro un muro Ok, bene, bene Li hanno preso acqua La città tipa Dicono che sia così in tutta la città Li stanno mettendo sotto Ho un cugino che sta con loro Davvero? Sì, sembra che non mi ha perso amato l'altro Sì, sembra che non mi ha perso amato l'altro Ora è l'altra tipa Ah, la tipa Oh, scippiamoli siamo Qua, cofura Guardi un cugliettino, eh Troppo difficile da... Anche tu pallottare in più Altro cibo Se mi sono fulgato la vita E... Ehm... Papapapam Papapapam Voila Ho usato la chiave Abbiamo raggruppato i rifornimenti nel deposito a sud Le scorte sono sotto chiave Bene, un ultimo giro usciamo E Robert? Con chi si rintenerà stanotte? Ehi, hai sentito qualcosa? Proveniva da là! Fulgono del No, non avevi la bottiglia Il mare, ma porra, ma porra. Sta fermo! È morto? Cos'è? Mi raccomando, eh. Adesso come cacchio faccio, vabbè. Eh, niente, per curarmi. Dai, qualcosa dammi. Qualcosa per non avere qualcuno sputo di vita. L'ho fatto sgamare. Non me la sono più fatta stretta perché speravo di curarmi qualcosa. Per curarmi prima, invece... Sei morto? Sei morto? Sei morto? Sei morto? Che cacchio! Mamma, mi stai prendendo in giro. Questa è un giro. Ok. Che non è proprio la migliore delle situazioni. L'ho preso per te. Che fiuto. Non è che hai anche qualche pallotto, da vero? Già, che gli sei. Avremmo dovuto portare più gente. Ci rallenterebbero e basta. Sì, hai ragione. Quando si dice chiediti sarà dato. Forza. Il molo è di qua. Altri pallotto. Un grande. Carichiamo. Aspettate. Una pistola. Ok. Qua ci sono... Un medikit. Molto utile. Bottiglia. Non mi serve. Pure pallottole. Niente, eh. Sono già sprecati così, raga. Aspettate. Coltello. GG. Questo è utile. Soprattutto più avanti. Qua abbiamo ripulito tutto. Andato veramente a dire da dove sono arrivato. Un tipo di sparita. Devo andare di... Qui? Dove sono arrivato. Ah, perché devo fare il giro o devo passare di là? Ah, infatti. Sto arrivando. Perfetto. Ecco il nostro uomo. Orne del cacchio. Sto ragionandolo adesso. Borlioso figlio di puttana. Facciamo la finita. Allora, ma devo giocare sterdo qua. Sono due lì. Sì, abbiamo perso i contatti a nord eppure a sud. Passa. Usiamo la testa. Sì, abbiamo perso i contatti. Wow. Non è vero. Questa è un problema. Ho fatto. Un problema. Un problema. Un problema. Non è vero. Un problema. Un problema. Un problema. Un problema. Un problema. Un problema. Accio! Sì! Dai! guarda mi ricordavo quando prendevi va bene ok, si vedeva niente capito? il corrotto è cattivo vedeva ah no ora c'era un tuo amico una volta come un bastardo dove? vedeva ti sento dove cagio staiò vedeva 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 e tu dove? spiega adesso voglio sapere allora adesso anche tu ma anche tu ma anche tu ma anche tu tu sei una brava persona ma anche tu non c'era quello del bastoncino eccolo ciao 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 E' permesso? Io sono entrato. Buongiorno. Ma è entrato qui? È abbastanza instabile così. Non è che mi sembra che possa anche arancere la pistola dopo che scarica. L'avevamo quasi preso! L'avevamo quasi preso. Ah, c'è una porta di qua. Che fai? Ciao, Robert. Tess, Joel... Niente rancori, vero? Assolutamente. Ok. Parca troia! Ci sei mancato? Ascolta, non so cosa tu abbia sentito, ma non è vero, ok? Voglio dire... Le armi. Vuoi dirci dove sono le armi? Sì, certo, ma... È complicato, ok? Senti, ehm... Lascia che ti spieghi. Devo... Cazzo! Ok, basta, basta, basta! Oddio! Basta, frignare. Stavi dicendo? Le ho vendute. Come hai detto? Non avevo altra scelta, avevo un debito. L'avevi con noi. Hai scommesso sul cavallo sbagliato. Ho solo bisogno di più tempo. Dammi una settimana. Sai, forse l'avrei fatto se non avessi tentato di uccidermi. Dai, sai che non volevo... Chi ha le nostre armi? Non posso. Dammi solo un paio di tonal... Cazzo, Cristo! Chi ha le nostre armi? Cristo... Le hanno le luci. Avevo un debito con le luci. Cosa? Ascolta... Praticamente sono tutti morti. Possiamo... Andare lì... Farli fuori tutti... E prendere le armi. Che ne dici? E dai... Che si buttano le luci! Uccidiamoli! È davvero un'idea del cazzo. Onesto. Onestissima. Bene, e adesso? Andiamo a riprenderci la roba. Come? Non lo so, gli... Spieghiamo tutto. Andiamo a... Cercare uno delle luci. Non dovrei andare lontano. Hello. Eccola qua. La regina delle luci. Che ci fate qui? Affari. Non sembri molto in forma. Dov'è Robert? Mi serviva vivo. Le armi che ti ha dato? Non erano sue. Le rivoglio. Non è così semplice. Cazzo se lo è. Ho pagato quelle armi. Se le rivuoi, devi guadagnarle. Di quante tessere stiamo parlando? Non mi importa delle tessere annunarie. Devo portare una cosa fuori città. Fatelo voi. E io vi ridò le armi. E anche di più. Chi ci dice che le hai tu? Ma quanto ne so, i militari vi hanno quasi eliminati. Su questo hai ragione. Vi mostro le armi. Devo andare. Decidetevi. Voglio vedere quelle armi. Seguitemi. Dobbiamo uscire da qui. Senza armi. Se vuoi che ce ne occupiamo, muoviamoci. Sì. Di qua. So come evitarli. Vieni. Giusto. Ho chiuso il triangolo per saltare le cose. Tanto so che sono abituato il triangolo, però non sono più come triangolo. Guarda di giù, guarda. Non ci incischi. E c'è un'altra bella esplosiva. Sono i tuoi quelli. Quelli che rimangono. Perché credi che mi sia rivolta a voi? Ma sapete cosa vi dico? Che siamo avanti nel prossimo episodio ragazzi. Io vi saluto da Jason è tutto. Ciao a tutti. Bella. Ciao a tutti.